Ecco, Signore, io vengo per fare la Tua volontà. Ecco, Signore, io vengo per fare la Tua volontà. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. In questo sabato apriamo il nostro cuore per accogliere la parola di Dio. Leggiamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 2, 13, 17. In quel tempo Gesù uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte e gli disse, seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i Suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli iscrivi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai Suoi discepoli, perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, Gesù disse loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Amen. Vorrei leggere insieme anche la prima lettura dalla lettera agli ebrei, capitolo 4, 12 e 16. Fratelli, la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Dunque, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Amen. Ecco, cari amici, oggi abbiamo queste due letture bellissime. Il Vangelo di Marco che va avanti, prosegue con la storia. L'evangelizzazione di Gesù alle folle, alle persone. Innanzitutto Gesù, tra la folla, vede Levi, lo chiama e gli dice seguimi. E dal banco dell'imposto dove era seduto, dove lavorava, lo segue. Ecco una chiamata. Ecco la parola di Dio che è efficace. E quando obbediamo alla parola di Dio riceviamo benedizione. Come Levi, Matteo, ha ricevuto questa grande benedizione. E poi Gesù, vediamo che sta a tavola, a casa sua, e ci sono molti pubblicani e peccatori, insieme a Gesù e ai discepoli. Quindi ci sono tante persone, non prettamente religiose, anzi forse proprio di religioso avevano molto, molto poco, questi pubblicani e peccatori, una categoria che comunque si discostava da quella dei praticanti religiosi. Ecco che Gesù non si scandalizza di nessuno. In Gesù noi vediamo il Padre. In Gesù noi abbiamo una relazione diretta con Dio. Quello che ha fatto Gesù è quello che farebbe il Padre, Dio. Colui che abbiamo detto dal Vangelo di Giovanni 1, l'invisibile, colui che ha fatto tutto dal principio, si è fatto carne. Ecco che in Gesù vediamo un modo di operare di Dio divino. Un modo che è socievole. Un modo che è alla portata di tutti. Non è solo per i colti, per i sapienti, per i dotti, o per le persone che comunque sono a un certo livello di conoscenza, anche teologica. E dice Gesù una cosa. Di fronte a pubblicani e peccatori con i quali stava, sentendo gli scribi che dicevano perché mangia insieme a loro, Gesù disse, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Innanzitutto, noi come uomini, fratelli e sorelle, siamo malati. Noi come uomini siamo peccatori. Chi è giusto di fronte a Dio? Chi è sano di fronte a Dio? Quante volte noi facilmente interpretiamo queste persone dicendo a tu che preghi tanto, sei sano, io sono un peccatore, io sono malato. O l'incontrario, io prego, vado in chiesa, sono sano, ma chi non va in chiesa, ecco, quelli sono i peccatori. Cari amici, non è così. Tutti, di fronte a Dio, siamo bisognosi di cura. Siamo malati. Malati che non è sinonimo dispregiativo. Significa che abbiamo bisogno di Lui. Tutti siamo peccatori. Lo ha detto Gesù. Chi non ha peccato, scagli la prima pietra contro la donna adultera. E tutti, questi dotti, i farisei, gli scrivi, se ne sono andati. A partire, dice il Vangelo di Giovanni, dal più anziano al più giovane, perché sapevano, conoscevano i loro peccati. Ecco quindi che, in sintesi, Gesù ha detto, io sono venuto per tutti. e sappiate che tutti voi siete bisognosi di me, come vostro medico, bisognosi di me, come vostro Salvatore. Quindi, questo brano, in qualche modo, ci abbassa, ci umilia. Anche questo, in un senso positivo, ci fa riconoscere che sempre siamo bisognosi di Dio. E mai dobbiamo, dice San Paolo, pensare di essere fermi, pensare di essere in piedi, pensare di non cadere mai, perché Dio è la nostra forza. In Dio abbiamo la forza di andare avanti nella nostra vita. Anzi, molto di più. Dice la lettera agli ebrei, la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. La nostra forza è Gesù e attraverso Gesù la nostra forza è la parola di Dio. Ebrei 4, 12. Questa è una delle più belle espressioni nella Bibbia riguardanti la sua parola. Ecco perché abbiamo iniziato da questo gennaio 2021, come coinonia, Giovanni Battista, Oasi di Biella, la scuola biblica, per dare un nutrimento in più di questi semplici commenti quotidiani, per dare un nutrimento sostanzioso, per entrare più profondamente nella parola. Non ci bastano, carissimi amici, tre versetti al giorno e un po' sentire che cosa dice, come applicarla alla vita. Abbiamo bisogno di conoscere la parola di Dio. E il Concilio Vaticano II, già più di 50 anni fa, è come si è risvegliato di fronte alla Sacra Scrittura dicendo tutto il popolo di Dio, tutte le persone hanno bisogno della Scrittura. Quindi rendiamola accessibile in una lingua comprensibile, in tante edizioni. Quindi, fratelli e sorelle, ecco come coinonia stiamo portando avanti la scuola biblica perché aiuti ciascuno di noi a ricevere, a studiare, ad entrare in profondità nella parola. È una parola che non è solo per i preti, i sacerdoti, religiosi e per ogni cristiano. Perché qui c'erano delle persone semplici, pubblicani, peccatori, hanno ascoltato Gesù che era il Verbo di Dio. Quindi tutti noi abbiamo bisogno di crescere nella conoscenza della parola. Quante volte noi cresciamo in conoscenze di hobby, passione, cose che ci piacciono fare, in cucina, nello sport, nella tecnologia, nelle notizie, nelle cronache, sappiamo tutto, il virus, quanti contagiati, quale zone rosse e non conosciamo la parola di Dio. Non conosciamo quanti sono i Vangeli, fratelli e sorelle. Davvero, riflettiamo su questo come cristiani. impariamo da Cristo, verbo che si è fatto carne, un verbo che è venuto ad abitare in mezzo a noi, che ci ha donato una parola viva, efficace e che ci aiuta giorno dopo giorno. E la lettera alle ebrei dice che Gesù ha provato, ha avuto anche lui nel suo corpo delle sofferenze. e proprio per questo è in grado di venire incontro a noi. Ma se non conosciamo la parola di Dio, siamo dei cristiani, davvero, un po' da compatire, ma, non un po', tanto da compatire. immaginare, non conosce la lettera alle ebrei che dice che Gesù ha provato anche lui sofferenza e proprio perché nel suo corpo ha sofferto e probabilmente molto più di noi, allora viene incontro a noi. Ci sa capire, ci sa aiutare, perché è Dio ma si è fatto uomo. E allora gli diciamo vieni Signore Gesù nella mia vita, io ho bisogno di te oggi, ho bisogno di una nuova esperienza con te, la stessa esperienza che ha fatto Levi che tu hai chiamato dicendogli seguimi, io ti voglio seguire oggi Signore, seguire così come sono, come peccatore, come malato, ieri abbiamo visto come lebroso che ha bisogno di te, di una spinta nuova, una forza nuova, un nuovo entusiasmo, vieni Signore e donami di scoprire sempre di più nella tua parola, la mia gioia, la mia forza, la mia luce, una sapienza nuova, un discernimento nuovo in tutta la mia vita, nella mia famiglia, nel mio lavoro, nelle mie attività. Grazie Signore Gesù, a te l'onore e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ecco carissimi, come ho annunciato prima, già in altri giorni di questa settimana, la scuola biblica è iniziata e sta avendo diversi studenti, che siete alcuni di voi anche, e mi fa molto piacere. Io sto registrando anche dei video solo per questi iscritti che vogliono crescere quindi nella conoscenza del Vangelo, della Bibbia, ma soprattutto anche entrando in profondità in quello che è la Sacra Scrittura per noi, il Verbo della vita, la gioia, la luce e la lampada ai nostri passi. Quindi, se volete, ancora, in questo tempo di gennaio, anche se siamo alla metà, ci sono ancora possibilità di iscrizioni perché noi impariamo da colui che è il Verbo, la parola che si fa luce, che si fa carne, viva in mezzo a noi. Grazie che mi avete accolto, ci vediamo domani, a presto. Ecco, Signore, io vengo per fare la Tua volontà. Ecco, Signore, io vengo per fare la Tua volontà. Ho sperato, ho sperato nel Signore ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Ecco, Signore, Signore, io vengo per fare la Tua volontà.